Il rap come riscatto, nel carcere minorile di Bologna i detenuti si scoprono cantanti, il loro talento sorprende il web. Storie di vita vera, che raccontano di un passato e un presente difficile e un futuro incerto, ma pieno di speranza e aspettative. Sono quelle messe in musica dai ragazzi del Pratello, il carcere minorile di Bologna. Andiamo avanti, Orea e Diamanti, tre canzoni scritte durante il laboratorio condotto dall'associazione Mozart 14. Dietro le sbarre, loro, i giovanissimi detenuti cantano se stessi. Suonano le percussioni, rappano tormenti, desideri, rimpianti e soprattutto sogni. Parole che seguono il ritmo di una vita che li ha portati fuori strada, con la droga, i furti, le rapine, la violenza. Nei loro brani, la consapevolezza di avere sbagliato, la voglia di crescere e riscattarsi. E così, in carcere, dove le giornate trascorrono lente e tutte uguali, il rap diventa svago e cura. Aspettando Orea, quella che cantano loro e che in arabo significa libertà.